... Ottobrata Romana a Tupo Come ha detto il Mastro, oggi è il 80esimo giorno d'agosto 2018 La mattina, povero assicuratore, che non è un assicuratore povero Pomeriggio a minuti, povero assicuratore bottegaio, che non è un povero, che non è un assicuratore bottegaio povero Ma secondo te sto male, io sono un miracolato al quadro, all'immesima potenza Sono romano, ho un lavoro che mi piace, una passione che mi fa impazzire E' una capitale strabordante, stravivante, fotonica, ambiziosa, energizzante Guarda di, questo è male, mi va la vita, tutta la vita E anche il trafilo con lo scooter e la margilletta Grazie a tutti Grazie a tutti